Buongiorno da Cipro Nord, mi chiamo Ornella Spadola, sono la proprietaria di Address Estate. Oggi parleremo delle opportunità a Cipro Nord. Ma dove si trova Cipro Nord? Ah, qui! Abbiamo il nostro Parlamento, il nostro Presidente, le nostre scuole, le nostre proprietà. Parliamo il turco, si usano tante valute ma principalmente le lire turche. Vantaggi di acquistare Cipro del Nord? Abbiamo tanti vantaggi. 330 giorni di sole, piagge incontaminate come nei Caraibi, vita molto economica rispetto all'Europa. Un pane 20 centesimi, il latte 80 centesimi, la benzina 65 centesimi al litro. Una storia molto lunga, risale fino ai Fenici, Romani, Greci, Veneziani, Lusignani, Ottomani ed Inglesi. Delinquenza molto bassa, il paese più sicuro del mondo. Aria pulita, alto tasso di letteratura e quasi tutti parlano inglese. Italiano? Siamo in pochi. Cosa potete comprare qui? Una casa vacanze? Una casa da sogno per le pensione? Una casa con reddito garantito? Terreni per investimento? Potete ottenere un permesso di soggiorno se acquistate una casa e questo servizio ve lo facciamo noi. Possiamo aprire una società? Abbiamo molte opportunità qua. Colleggi internazionali, università internazionali, una vita sicura e tranquilla. Nel prossimo video discuteremo delle aree specifiche di Cipro del Nord. Arrivederci alla prossima volta!